Cosa significa direttore portare alla dipendenza i medici del 118? Significa che loro non saranno più dei convenzionati ma saranno dei dipendenti quindi avranno la certezza in qualsiasi momento di essere dipendenti e quindi di lavorare alla diretta dipendenza dell'azienda e non più come convenzionati. Dunque una buona notizia per i medici del 118, non è detto ci dice uno di loro passare alle dipendenze dell'ASREM sarebbe molto penalizzante dal punto di vista contributivo in tanti, soprattutto con un numero importante di anni di servizio e contributi versati sulle spalle non accetteranno la previsione. La riprova è il fatto che i bandi vadano deserti dal medico altre perplessità espresse in merito all'ultima idea dell'azienda sanitaria per il servizio d'emergenza 118 sul territorio regionale a bordo di automediche dislocate in punti strategici da cui raggiungere le ambulanze in emergenza sarebbe questa la nuova postazione dei medici in realtà ci dice il professionista di automediche l'ASREM non ne ha, andrebbero noleggiate ma a quali costi? E poi nessuno ha ancora capito quali siano questi punti strategici chiediamo al direttore ASREM un confronto vero con dati alla mano la poco conciliante ma realistica risposta